Ehi ragazzi, tutti ai vostri posti! Oggi dobbiamo affrontare un argomento molto importante. A causa di spiacevoli eventi verificatisi di recente nel paese, sono stato incaricato di parlarvi delle molestie sessuali nelle scuole. E che roba è? Qualcuno sa dirmi cosa significa molestie sessuali? Sì, Eric? E quando stai cercando di avere un rapporto sessuale con una gnugna e arriva un altro uomo alle tue spalle e ti fa il sollicio ai marroni? No, Eric, questo non c'entra assolutamente niente.